benvenuti su my football jersey vi presento la prima maglia della america degli stati uniti d'america per la stagione in corso 2024 25 questa è la maglia che verrà utilizzata in coppa america la maglia ovviamente in versione player iscriviti al canale Non mi dispiace la maglia, è una maglia bianca con questa ripienitura con il rosso e il blu, ovviamente i colori tradizionali degli Stati Uniti. Mi piace tantissimo il tessuto player della versione player di Nike, il costo lo vedete molto basso e i tempi di spedizione sono abbastanza buoni, questa è arrivata in 26 giorni. Prima di salutarvi vi ricordo di mettervi in descrizione i commenti per farmi sapere cosa ne pensate della maglia e quali altre maglie vorreste vedere. Ci vediamo alla prossima ma prima, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao! Musica Grazie per la visione!